Oggi video prime impressioni. Prime impressioni di un'opera che in realtà è tantissimo il mio genere, ma non rientra nei generi di cui di solito parlo per la maggior su questo canale, però stavolta ho deciso di fare un'eccezione, perché può essere utile magari a qualcuno di voi che sta cercando un parere per capire se può interessarvi o meno, e perché alla fine, se si tratta di questo genere, in realtà a me va tantissimo di parlarvene. Quindi, se vi ho incuriositi, vi invito a restare con me fino alla fine. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, lettrice di manga, lettrice di fumetti, e su questo canale ve ne parlo. Oggi video prime impressioni, quindi parliamo di un primo volume, ma vi accennerò qualcosa senza troppi spoiler anche sul secondo, perché secondo me in questo caso bisogna leggerli entrambi per capire il carattere di questa opera, per capire se ci può piacere o meno. Perché io sarei stata tranquilla a parlarvi semplicemente del primo, l'idea era quella, ma poi ho letto il secondo e delle idee che mi ero fatta su questo manga, sono state smentite. E allora, secondo me, certe cose bisogna dirlo. C'è un contenuto di cui voglio sottolineare la presenza, quindi accennerò qualcosa anche sul secondo volume. Ma, come sempre, cercherò di non farvi spoiler, cercherò di dirvi solo quello che è essenziale per capire l'essenza di questo manga e per capire se vi può interessare o meno. L'opera in questione è Ri Monster. Questo Isekai, che è uscito recentemente per Magic Press, io ho letto i primi due, questo qua è il secondo. Comunque sia, costa 6,90€ a volume, sovraccoperta come al solito, e sotto ci presenta lo stesso disegno della sovraccopertina. Questo è un Isekai e io di Isekai di solito parlo solo nei video acquisti letture. Non so se ci ho mai dedicato proprio un video a una di queste opere, però puntualmente un po' me ne pento, perché ok, se mi seguite forse mi seguite peraltro, ma a me fa piacere parlarvi anche di queste cose e, appunto, magari sono utili, sono interessanti per qualcuno. La particolarità di questo Isekai è che il protagonista, ok, si reincarna in un altro mondo, ma come goblin, quindi non come umano. Un po' tipo Vita da slime e So I'm a spider, so what? Li cito non solo per questa cosa, che il protagonista non è umano, ma anche per altro, perché secondo me, leggendo questo fumetto, si riesce a fare un collegamento con quelle due opere per certi elementi. Quindi in un certo senso le ricorda, poi in realtà ha un carattere tutto suo, quindi ok, magari non mi soffermo sulle differenze. Ne ho parlato molto brevemente nell'articolo a riguardo che ho fatto su nerdream.it, che forse è già uscito e se è già uscito ve lo linko in descrizione a questo video. Però oggi ne parlo un po' più liberamente, appunto, così, a chiacchiera tra di noi, mentre sugli articoli scritti cerco di parlare in modo diverso delle cose. Il protagonista di questo manga è un essere umano che muore e si reincarna. Una volta reincarnato scopre di essere in un mondo fantasy e scopre di essere un goblin, una delle razze più deboli, che deve proprio lottare per sopravvivere. Una razza che tra l'altro ha una vita breve e quindi lo vediamo crescere subito, già nei primissimi giorni di vita. Perché sì, seguiamo il protagonista giorno per giorno, in un certo senso. E nei riquadri che compaiono nelle tavole abbiamo proprio una sorta di narrazione in prima persona che ci accompagna, quindi proprio il protagonista stesso che racconta, spiega i suoi pensieri, quello che sta succedendo. Il che magari può sembrare noioso parlarne così tra di noi, però in realtà non lo è, perché poi c'è tutto il resto che succede. Un'altra particolarità di questi Sekai, che me l'ha reso interessante sin dall'inizio, è il fatto che, da quanto ci racconta il protagonista, capiamo che lui non viveva nel nostro mondo prima di morire e reincarnarsi. Viveva in un mondo che sì, sembra simile, perché in un certo senso lo vediamo anche. Però in un mondo dove le persone hanno delle abilità speciali, dei poteri, lui stesso ne aveva uno, quello di assorbire il potere degli altri. E questa sua capacità gli rimane anche da reincarnato. Quindi lo vediamo mangiare qualsiasi cosa proprio per ottenere le capacità degli oggetti, le capacità degli animali, degli individui che mangia. Tutto quello che vediamo poi qua dentro soprattutto è lui che caccia, che trova un modo per cacciare una nuova creatura e che mangia, che prende queste abilità. Comunque non lo fa da solo perché c'è un piccolo gruppo di compagni che diventa sempre più folto, che appunto lo segue. Anche perché avendo questi ricordi di un'altra vita, lui non è puramente un goblin che prova a sopravvivere e non sa come fare, però ha un intelletto più sviluppato degli altri e quindi subito si ritrova con delle persone al suo seguito. Io questo primo volume l'ho trovata una lettura molto leggera, proprio perché mi è sembrata anche un po' ripetitiva in un certo senso. Insomma, ok, il protagonista passano i giorni, impara cose nuove, mangia cose nuove, degli altri personaggi gli si avvicinano, poi scopriamo anche la possibilità di evolversi, quindi non è che deve per forza restare un goblin per come noi l'abbiamo visto sin dall'inizio. Già in questo primo volume c'è anche un primo approccio con gli umani e c'è la considerazione che i goblin hanno degli umani e che va però in conflitto con quella che il protagonista ha degli umani, perché lui in un'altra vita è stato umano e quindi cercherà a modo suo di cambiare un po' le cose. Quindi non è stato in realtà un volume noioso, però è stato un volume per me molto leggero, molto tranquillo, un volume in cui in realtà si combatte, si mangia e si combatte per tutto il tempo. C'è anche del sangue, non è che sono scene super cruente, però c'è anche del sangue, però non l'ho trovata quella cosa adrenalinica. Anche il finale stesso che lascia un po' in sospeso, in altri manga ho trovato finali simili che lasciavano molto più in sospeso, mentre questo, ok, mi aveva messo curiosità di leggere il seguito, avevo già deciso di andare avanti con il seguito, però non mi ha lasciata proprio questa spinta ad averlo subito, a leggerlo subito. Quindi una lettura molto tranquilla, però che in realtà ho apprezzato. Un primo volume che mi ha fatto pensare potesse essere abbastanza adatto a tutti, ok, però con delle scene violente, quindi non proprio tutti, però essendo edito Magic Press io mi domandavo se ci fosse un contenuto esplicito di un altro tipo, e cosa che in questo volume non ho trovato, quindi ho pensato, ok, un'opera fantasy tranquilla, va bene, unisekai di questo tipo, perfetto. E in realtà questa mia impressione è stata smentita nel secondo volume, per questo ci tenevo ad accennarvi qualcosa in questo video, perché, ok, le mie primissime impressioni sono state, tra le altre cose, che questo volume non aveva nessun tipo di contenuto ecci, nessun tipo di contenuto esplicito, ma se io vi presento l'opera così, in realtà l'opera non è così, perché nel secondo volume calca molto di più la mano su questo aspetto, che invece è presente e che di conseguenza io immagino che sarà sempre più presente, siamo solo all'inizio, perché anche se i personaggi femminili che compaiono qui dentro non gravitano proprio tutti intorno al protagonista, come avevo avuto impressione sin dall'inizio, in realtà tantissimi lo fanno. E il protagonista, Goburo, non è il solito protagonista dei manga isekai, che non si accorge che le altre ragazze, che nel suo party dove sono tutte ragazze magari, in questo caso no, tutte sono interessate a lui, non se ne accorge, e Goburo ha modo di accorgersene, e ok, va bene questa situazione con tutte le sue conseguenze. Quindi abbiamo un vero e proprio harem e un contenuto esplicito che non viene mostrato, non viene fatto vedere, viene detto che c'è, viene fatto capire che c'è, viene sottolineata la sua presenza, anche dove secondo me non c'era bisogno, però abbiamo questo tipo di contenuto, ecco. Addirittura c'è una parte in cui il protagonista deve avere dei rapporti, anche non avendone voglia, ma perché una sorta di regola stabilita da lui vuole questo, e così, vabbè, si sacrifica a questi rapporti, lasciando gli altri frustrati in attesa, lui si sacrifica, poi dopo comunque nella sua casina ha il suo harem che lo aspetta. Quindi non capisco il bisogno di sottolineare il fatto che il protagonista ha un sacco di rapporti, che è un sacco desiderato da tutti, ha un sacco di opportunità di questo tipo, non capisco, perché non è quel manga davvero esplicito dove ci vengono anche mostrate, lo fanno per inserirne il più possibile, vengono accennate. E quindi non capisco perché fino a questo punto. Però, che devo dire, io vado avanti con la lettura perché sono curiosa di vedere i prossimi sviluppi. Oltre ai Goblin vediamo anche altre razze e mi domando cosa succederà dopo. Quindi la mia prima impressione è stata positiva, anche se qualche idea che mi ero fatta dal primo volume è stata smentita nel secondo. Perciò, secondo me, era giusto tirarlo in causa in questo video, e soprattutto, secondo me, per farvi un'idea di quest'opera, se volete leggerla, provare, vedere se vi può piacere, dovete leggervi almeno i primi due. Io adesso non ho idea di quello che succede nel terzo, se nel terzo cambierà completamente qualcosa. Basta! Le mie prime impressioni riguardano questi primi due volumi e penso che siano abbastanza, almeno per ora, per capire se questo manga può interessarvi o meno. E per me, per ora, mi interessa e quindi continuerò a prenderlo. Poi vedremo, vedremo come va avanti. Sapete, forse se mi seguite, sapete che a me il genere Isekai piace un sacco. Alcuni li ho presi quasi per principio, altri ancora non li ho presi, ma ne sto seguendo pochi. Ne sto seguendo davvero pochi. Quindi, se un manga poi non mi piace, fa niente se è di un genere che mi piace così tanto, se non mi piace, se mi stufa, se mi annoia, se inizio a non sentirne così tanto il bisogno, io mi fermo, non vado avanti con la lettura. Quindi, vedremo come andrà, perché sicuramente fino al terzo lo prenderò, lo leggerò. Non ho in programma di smettere, però chissà. Anche perché ci sono altri manga Isekai che mi hanno entusiasmata tantissimo sin dall'inizio, mentre questa per me rimane una lettura abbastanza leggera. Piacevole, però comunque leggera. Che è strano forse da dire, perché appunto ci sono queste parti di combattimento, ma in realtà la percepisco proprio come una cosa da leggere in tranquillità. Non lo so, a me ha dato questa impressione. E a questo punto vi chiedo se l'avete letto anche voi, se voi avete avuto la stessa impressione, insomma, cosa ne pensate. Qui accanto a me vi lascio un altro video che potrebbe interessarvi. Vi ricordo che sul mio canale esce un nuovo video ogni martedì alle 15. Ma in settimana se ho materiale pubblico anche qualche altro contenuto. Detto questo, vi invito a iscrivervi per non perdervi tutto il resto. Io vi saluto e vi do appuntamento sempre qui ad un prossimo video.